Presentato questa mattina presso il Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa, il documentario L'Ultima Ruota, un lavoro prodotto dalla Filt CGL di Ragusa e realizzato dalla Loco Studio Communication di Modica, per la regia di Francesco Turla. In un paese come l'Italia, dove il 90% del trasporto delle merci avviene ancora su gomma e con ritmi sempre più frenetici, la proiezione di un docufilm che affronta temi come l'autotrasporto di qualità, la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori, introduce una problematica di grande attualità. Testimonianze dirette di lavoratori che denunciano una situazione sempre più precaria della loro categoria, dove i tempi di consegna delle merci sono spesso inconciliabili, sia da un punto di vista logistico, sia da un punto di vista della sicurezza del lavoratore, costretto a correre sempre più veloce dell'altro, per essere competitivo. L'incontro di oggi è stato il primo di altri appuntamenti in programma che vogliono mettere al centro del dibattito le serie problematiche degli autotrasportatori nel nostro paese. Una professione usurante, condizioni di lavoro che nella maggior parte dei casi non rispetta nel contratto nazionale, orari estenuanti e una concorrenza sempre più selvaggia che danneggia sia le aziende che i lavoratori.